In Serie D un Marina di Ragusa ancora infuriato per come sono andate le cose domenica scorsa contro il Troina. Un tiro, un gol che ha spezzato le gambe ai ragazzi di Mister Utro ancora fortemente amareggiato per una terna arbitrale considerata dallo stesso allenatore approssimativa e totalmente opposta a quella di tutto rispetto invece che si è vista in campo contro il Palermo o il Savoia. Si spera adesso contro la Cireale squadra certamente con qualche problema alle spalle ma che sembra si stia riprendendo nel migliore dei modi continuando a macinare risultati utili per recuperare quella penalizzazione di 4 punti per via di alcune vertenze non pagate ai giocatori nella passata stagione. Per il Marina di Ragusa fermo con 24 punti in bilico tra i playoff e la salvezza si tratta dell'ennesimo appuntamento utile per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. In eccellenza il Ragusa anticiperà domani lo scontro in casa contro il Giarre. Azzurri e i play sempre più concentrati sull'obiettivo finale ovvero un posto nei playoff. E' risaputo che il Giarre ha allestito una squadra importante spiega il tecnico Alessandro Settineri che conta su una società solida con a capo due persone per bene che stanno facendo grandi cose. Non ci sono contromisure particolari che adotteremo e Settineri aggiunge. Dall'altra parte ci sono calciatori sia individualmente che dal punto di vista del collettivo di grande qualità. Sempre in eccellenza anche il Santa Croce che invece è chiamata ad affrontare l'Atletico Catania. Sempre claudicante e con problemi evidenti di società e organico. Ancora ferma a un solo punto e reduce da una pesante sconfitta. 9-0 contro il Mascaluccia l'Atletico resta una squadra che il Santa Croce comunque intende rispettare e affrontare come tutte le altre. Così come è accaduto contro il Ragusa con molta probabilità non si arriverà neanche a completare la partita ma quello che importa attualmente al Cinguebleo è ottenere i tre punti importanti per la serenità nella zona salvezza e magari puntare anche ai playoff. La stessa zona che in promozione il Modica sconfitta dalla capolista Siracusa si è vista soffiare sotto il naso dal Floridia. Adesso per i Tigrotti è giunto il tempo del riscatto e di tentare di riconquistare quanto appena perso affrontando in casa domenica proprio lo stesso Floridia. Il Floridia è un avversario da non sottovalutare, la classifica lo dice, ha un punto in più di noi quindi significa che al momento sta facendo un punticino meglio di noi. Le squadre del mister si sanno, l'anno scorso ci siamo giocati un campione testa a testa senza mai mollare quindi sappiamo che le squadre di Danilo non mollano, giocano bene, esprimono un buon calcio però non possiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare. Leggeremo bene la partita, la studieremo e ci faremo trovare pronti. Ben otto lunghezze sopra al Modica invece al secondo posto e a un passo dalla capolista Siracusa c'è il Pozzallo chiamato al derby Ibleo fuori casa contro la Virtus Ispica ferma a metà classifica. A tentare di allungare la scia di successi invece il Comiso che reduce dalla vittoria contro la Leonfortese adesso è chiamato ad affrontare l'ultima in classifica ovvero il Climiti San Paolo. Appuntamenti in trasferta anche per il Frigentini, l'Atletico Cicli che invece dovranno vedersela rispettivamente contro la Riccardo Garrone, Siracusa e il Caltagirone. Grazie a tutti.